... Ragazzi credo che sto facendo un casino infinito L'audio del menu Tio cazzo, senti che lampo Ammazzo Ti sentito Eh si Che botte ti arrivano da C'è una quella bomba qua vicino C'è una moto sospetta Senti anche tu quella WM Non è lontano 200 190 Però che devo arrivare a peccato Devo guardarmi anche le spalle Che c'è quella moto e lo shak Non mi piace per niente Io vorrei che ci sia uno lì dentro Lì là dentro lo shaketto è merda E' sicuramente uno Quella moto non è uno spawn Non cedo dentro Come voglio E' la pure E' la pure E' la WM da dietro più che altro E' la pure E' la pure Oddio Vedete un attimo Facciamo i passi Che cosa E' la pure E' la pure E' la pure se non ci arrivi in safe spero che non ci sia nessuno guarda lì è morto se ne ero un lato lo sapevo io basta santi si fa passare po asciutto e risciamo la la stazione si, celebre traccio No, no, no. ecco dentro lo so io porco però non c'è un punto in cui posso fermarmi che non di camper mettiamo qua c'è quelli da dietro guardate che schifo tutti sulle colline del cazzo sono scosti lì devo curare non mi interro E ho capito Più di cancro Sono tutti camper Ma schifo Mi devo spostare da qua Uno è lì Ma è pieno di camper dappertutto Non schifo Come si fa a giocare così Eh lo so Non è che si è messo bene a giubo elmo Infatti qua ti vado a lutarmi quello Mi sa che fuori safe quello E ottimo Ottimo Quello si Qualcun di per puliarmi un angolo Ho dovuto fare una strage Siamo un giubo nuovo Il mio ho 70 di vita Il mio ho 70 di vita E ora sto cercando di capire dove mettermi E ho fatto il cazzo E' uno davanti E' uno di qua Bello Sparate a quell'altro Non sparate a me Me lo devo scopare io E' un'altro E' un altro ancora là Ero mancato Cazzo i ragazzi è un 3x sulle M24 comunque vorrei notare sta cosa me la vedo zitti si ma zitti mi manca quello di sinistra che non l'ho visto io non chiamo all'1 comunque sono under equipaggiato è meglio quello che ho 4x4 chiedo scusa 12 kill comunque adesso una nade non l'ho visto l'ho visto Vinto Bello Baby Con le M24 Oh baby Ho partito dall'azienda Comunque Vai Il finale Ho fatto un'altra Meritato un sacco Sì ma col 3x Col 3x Nel 4 l'ho preso con l'ultima kill Vado che chiudo l'altra